Signori si nasce è certamente il titolo di un vecchio film degli anni 60 con Totò e Peppino, ma è anche un modo di dire molto comune. Signori si nasce in tutta dignità, ma oggi con i troppi problemi economici siamo sempre più in povertà. Sì, è una constatazione, il Carnevale di Varejo serve anche a questo, mettere un pochino in evidenza quello che è la realtà. Signori si nasce tutti in dignità, cioè a dire che tutti noi quando nasciamo siamo tutte persone, quindi tutti dignitose. Poi la realtà ci rende quello che purtroppo alle volte diventiamo. Le povertà sono tante, spirituali, umane, materiali. In questo caso qui analizzo l'aspetto economico, la realtà di oggi è quella che è. Allora ho pensato a queste figure così strampalate, figure che sono ridotte nella sua, nella loro anzianità, a questo livello, con tutto un po' rotte, con queste corone, con un oro ormai strappato. Quindi ecco, è un invito a pensare che la dignità è una cosa seria e occorre l'onestà per ridare dignità. Quindi la dignità la si ridà con l'onestà che oggi mi sembra sia un valore sempre più indisuso. Grazie a tutti e buon diritto. Signori si nasce e poveri si diventa di Adolfo Milazzo. Grazie Adolfo.